Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Siamo finalmente arrivati alla fine della descrizione della struttura in tre atti. Questa settimana andiamo a parlare del terzo atto, il finale della storia è il momento di massima tensione narrativa. Sbagliare a gestire questo atto vuol dire mandare in fumo l'intera storia, quindi il Master deve prestare particolare attenzione a quello che succederà adesso. Se sbaglia avrà buttato tutto, ma se riesce a gestire le cose come deve probabilmente otterrà una di quelle quest che i giocatori racconteranno per gli anni a venire. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere qual è la struttura del terzo atto e la struttura in tre atti. Il terzo atto è il finale del racconto. Tutte le sottotrame oramai si sono chiuse, i giocatori hanno raggiunto tutte le informazioni che gli servono per finire la storia, i personaggi hanno raggiunto il massimo della potenza che era prevista per loro durante questo racconto e la tensione narrativa è al suo apice assoluto e non aspetta altro che venire rilasciata. La parte più importante del terzo atto è il climax, il momento di massima tensione narrativa all'interno dell'arco. Durante il climax gli eroi si confrontano con l'antagonista e viene deciso l'esito dell'arco. O gli eroi prevarranno o verranno sconfitti. Per giungere al climax i personaggi, partendo dalla conclusione del secondo atto, dovranno prendere il totale controllo della narrazione e utilizzare tutte le esperienze che hanno accumulato. Questa parte è chiamata il massimo rischio o il o la va o la spacca. Inutile dire che proprio qui la tensione deve salire fino al suo apice, ovvero il climax vero e proprio. Dopo il climax la storia avvolge al suo epilogo. Sia che i personaggi abbiano sconfitto l'antagonista o che alla fine siano stati battuti, questo deve avere delle conseguenze sul mondo di gioco che devono essere mostrate ai giocatori e si dovrà stabilire una nuova situazione di equilibrio per dare un senso di compimento all'intero racconto. Ovviamente l'arco termina con il finale. A seconda dell'importanza dell'arco e della sua posizione all'interno della campagna, il finale potrebbe essere la conclusione vera e propria del racconto oppure essere l'inizio di un successivo arco che utilizzerà il nuovo equilibrio come situazione di partenza. Il terzo atto normalmente è il più corto dei tre, anche perché oramai i personaggi sono focalizzati esclusivamente sullo sconfiggere della propria nemesi e questo lascia poco spazio a archi narrativi secondari o spiegazioni e sviluppi della trama. Tutte le linee narrative oramai si sono chiuse, tutta la crescita dei personaggi è già stata fatta e hanno capito il loro posto nel mondo e sanno cosa devono andare a fare. Tutto quello che doveva essere spiegato è già stato spiegato e abbondantemente dimostrato nella quest. Adesso i personaggi si possono focalizzare esclusivamente sulla nemesi. Ora che tutte le sottotrame si sono concluse, gli eroi possono dedicarsi esclusivamente al cattivo. Adesso non hanno nient'altro da fare che andare ad affrontare e possibilmente sconfiggere la loro nemesi, in quello che viene chiamato il periodo del massimo rischio. Questo è un altro di quei momenti della storia in cui i personaggi devono essere liberi di comportarsi come preferiscono e ai giocatori deve essere data la massima libertà su come approcciare il finale della storia. Per aumentare al massimo il dramma, gli eroi dovrebbero essere messi nella condizione di mettere a rischio qualcosa che è importante per loro nel caso falliscano la quest. Anche in questo caso che cosa deve essere messo a rischio dipende dal tema, dal gruppo, dalla storia. Potrebbe essere il loro prestigio, i loro affetti, i loro cari, come potrebbe essere banalmente il loro compenso. In questa parte dell'arco la tensione, il pericolo e l'ansia dei giocatori devono essere progressivamente aumentate fino a essere rilasciate nel finale in quello che è il climax della storia. Il climax è il momento più importante della storia, quello in cui si focalizza tutta la tensione che è stata suscitata fino a questo momento. Ed è probabilmente il momento che contiene la scena che tutti i giocatori si aspettavano da vedere fin da quando la quest è iniziata. Cioè il momento in cui avranno il loro confronto finale contro la Nemesi. Ovviamente quanta sia la tensione e quale sia la scena dipende molto da qual è il racconto e qual è il tema e il tono del racconto. Uccidere il drago in un epico duello ha sicuramente un impatto diverso che riuscire finalmente a firmare un accordo che aumenterà il profitto della ditta dei personaggi. Indipendentemente da quello che vi succeda nel dettaglio, il climax è il momento in cui si dà la risposta alla domanda implicita posta dall'incidente iniziale. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere il super cattivo? L'asteroide sarà deviato prima che si schianti sul pianeta? Riusciranno gli avventurieri a fuggire dalle catacombe della megamorte assoluta? Il climax e il modo in cui i giocatori lo gestiranno porterà inevitabilmente all'epilogo. L'epilogo è il finale della storia. Quello che è successo nel climax, comunque gli eventi dell'arco narrativo hanno portato di nuovo il mondo di gioco in uno stato di equilibrio. Questa nuova situazione di equilibrio potrebbe essere funzionalmente indifferente dalla situazione di equilibrio iniziale. Adesso che i goblin sono stati sterminati nessuno attaccherà più il villaggio. Adesso che il ladro è stato catturato gli oggetti rubati verranno restituiti ai loro originali proprietari. In casi come questo si dice che il finale porta a un ristabilimento della condizione iniziale, ovvero sia gli eroi hanno lavorato per fare in modo che nulla cambi nel mondo di gioco. Al contrario il finale potrebbe portare a quella che è chiamata una imposizione di una nuova realtà, ovvero sia gli eventi di gioco hanno portato sia una nuova situazione di equilibrio, ma che è sostanzialmente diversa da quella di partenza. Ora che gli schiavisti sono stati sconfitti, gli schiavi sono liberi e fonderanno la loro nuova comunità. Ora che il malvagio barone e le sue armate sono state annientate, le terre della baronia vengono annesse al regno del re buono. Se il finale porti a un ristabilimento della situazione iniziale o all'imposizione di una nuova realtà, dipende principalmente dalle azioni che hanno avuto i giocatori, come i personaggi hanno affrontato la situazione, potrebbe portare le cose in un modo o nell'altro. In realtà è anche influenzato dai canoni del genere. Nel fantasy classico, diciamo nel fantasy fiabesco, normalmente si tende sempre a voler portare il ristabilimento della condizione iniziale. Altre storie potrebbero portare invece all'imposizione di una nuova realtà. Li dipende anche semplicemente dal gusto del tavolo e dalla posizione di questo arco nel confronto dell'intera storia degli archi narrativi precedenti e successivi. Molto probabilmente se questo arco narrativo è il primo di una serie, porterà quasi sicuramente a un'imposizione di una nuova realtà che darà origine al successivo arco narrativo. Magari poi la somma e tutti gli archi narrativi porterà alla fine al ristabilimento e alla posizione iniziale. Il finale ovviamente non porta solo a delle conseguenze per la storia, ma porta anche delle conseguenze per i personaggi. In linea di massima se il finale è positivo nei confronti dei personaggi si dice che la storia è una commedia, se il finale è negativo si dice che la storia è una tragedia. Sì, commedia non vuol dire che la storia fa ridere. Ora dopo tutti i potenziamenti, conoscenze, contatti, livelli, qualsiasi cosa i personaggi abbiano accumulato in base alla meccanica del gioco che state usando, anche il rapporto dei giocatori e dei loro pg rispetto al mondo di gioco è cambiato. I png, gli abitanti del mondo potrebbero vederli come degli eroi per quello che hanno fatto durante l'arco narrativo o potrebbero vederli come dei criminali per quello che hanno fatto. Le ricchezze che hanno accumulato gli permettono di comprarsi delle terre e diventare dei signori feudali, le abilità che hanno sviluppato gli permettono di intraprendere nuove missioni, magari anche la loro fama è cresciuta e quindi verranno chiamati da png per svolgere incarichi particolari. Ne abbiamo parlato sui video del tesoro, ve li linko da qualche parte. Questo porterà ovviamente delle conseguenze per quelle che saranno le storie successive oppure porterà alla fine delle storie successive. I personaggi potrebbero utilizzare l'astronave che hanno rubato durante la quest per andare a esplorare le zone più remote della galassia e vivere centinaia di nuove avventure, come potrebbero decidere di sfruttare le ricchezze che hanno accumulato per ritirarsi a vivere, per vita privata e diventare magari dei png in queste successive. Ovviamente questo dipende sia da quale è stato l'esito effettivo, cioè se alla fine i giocatori hanno vinto o hanno perso, mettiamola così, sia dalle scelte dei singoli giocatori, ovviamente dipende anche da come questo arco si posiziona. Se questo è il primo di una serie di archi narrativi, molto probabilmente le imprese ai giocatori andranno avanti. Se l'ultimo probabilmente è il momento in cui i pg si ritirino a vita privata. E con questo per un po' daremo l'addio alla trattazione della struttura in tre atti. Mi rendo conto che siano stati dei video incredibilmente pesanti, mi complimento con tutti quelli che sono effettivamente riusciti a reggerli fino qui. Vi posso assicurare che anche per me non è stata una passeggiata e anzi ho dovuto tagliare moltissimi concetti che però piuttosto approfondiremo più avanti. Adesso voglio dare anche un po' di spazio alla rubrica sul diventi che per forza di cosa ho dovuto accantonare per evitare di allungare troppo i tempi rispetto agli episodi delle fondamenta del dungeon. Voglio in particolare ringraziare uno di voi iscritti Federico Toscano che è quello che si è offerto come cavia per leggere la prima stesura di tutti i testi della serie e che non si è neanche lamentato degli errori d'ortografia. Settimana prossima probabilmente ci vedremo con un episodio del D20 System ma devo ammettere che al momento in cui registro non ho idea di cosa farò come sempre. Nel frattempo però voglio sapere da voi cosa ne avete pensato di questa serie. L'autunno scorso avevo chiesto a voi iscritti se cominciare a fare le cose un po' più difficili o continuare con le cose più basilari. Avevate detto no no procedi pure con le cose difficili. Voglio sapere quanto queste cose sono difficili quanto sono state comprensibili in linea generale se la serie vi è piaciuta o semplicemente vi è annoiata. Ditemelo con un commento qui sotto e come sempre se avete domande scrivete anche quelle non vi fate problemi. Ovviamente se i video vi sono piaciuti lasciate un like e condivideteli per far crescere il canale. Se non volete perdervi la rubrica D20 System e gli altri video che usciranno iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella. Io sono il Master Ka e noi ci vediamo al prossimo video.